Aquila, Trento, Calisio. Subito scontro difficile per il Calisio, chiamato ad affrontare una delle certezze di questa categoria. Si lotta per tre punti fondamentali per iniziare al meglio. Dolomitica a Gardolo. Il Gardolo vuole dire la propria dopo aver chiuso un passo dalla promozione e quest'anno si punta ancora allo stesso obiettivo. Non sarà facile per la Dolomitica. Fassa Fiemme. Gli ospiti ricominciano dalla prima categoria dopo la retrocessione nella passata stagione. Si sfida chi ha voglia di sorprendere contro chi vuole tornare dove gli spetta. La Rover e Telve. La neopromossa ospita la compagine giallo-verde, protagonista di un ottimo mercato. Con la nuova stagione è subito cazza ai tre punti, ma non sarà facile. Lona Laseis Calceranica. Altra neopromossa, questa volta contro chi ha disputato i play-off nella passata stagione. Il tifo caloroso dei padroni di casa potrà fare la differenza? Mattarello Civezzano. Uno scontro tra due squadre che hanno concluso a metà classifica. Si tratta di un match molto equilibrato. Vedremo chi avrà il guizzo vincente. Vattaro Verla. I padroni di casa hanno ottenuto la salvezza, mentre gli ospiti una posizione dignitosa in classifica. Si confermeranno i rapporti di forza, oppure la forma fisica farà la differenza? Vattaro Verla.